Musica Benvenuti a Telecru LIS, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra Assemblea Legislativa dell'Umbria e Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale dell'Umbria. Nella seduta dell'Assemblea dell'8 settembre scorso sono state discusse interrogazioni, mozioni presentate dai consiglieri, approvate anche atti riguardanti il programma di riforme statutari e regolamentari, l'adeguamento delle strutture scolastiche e la programmazione europea. Questa la sintesi dei lavori. L'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità la mozione di Paola Fioroni e del capogruppo della Lega Stefano Pastorelli per il miglioramento del servizio di cardiologia riabilitativa in Umbria, con un emendamento aggiuntivo proposto per la minoranza da Tommaso Bori, Partito Democratico. L'atto impegna la Giunta a proporre azioni per la presa in carico dei pazienti operati e che già nella lettera di dimissioni dall'ospedale sia indicata la struttura presso la quale iniziare l'attività di riabilitazione e la data del primo appuntamento. Si chiede l'implementazione delle strutture e la copertura delle aree scoperte anche con la mappatura dei defibrillatori esistenti sul territorio regionale al fine di individuare le eventuali criticità. La minoranza ha voluto incidere nel testo l'aggiornamento del piano diagnostico-terapeutico assistenziale e la stesura di un piano regionale per la cardioprotezione. L'Assemblea ha approvato all'unanimità la mozione promossa dal consigliere Vincenzo Bianconi, integrata da un emendamento della Lega che impegna la Giunta a riconoscere la fioritura di Castelluccio di Norcia come evento di grande interesse e identitario dell'immagine e dei valori con i quali l'Umbria si presenta in Italia e nel mondo e a supportare ogni anno l'evento per garantire un'adeguata organizzazione, immagine, sicurezza, animazione e sviluppo rispondente alle aspettative delle popolazioni locali e delle decine di migliaia di fruitori nazionali e internazionali. Illustrato in aula dal Presidente Daniele Carissimi il programma della Commissione Riforme Statutari e Regolamentari un articolato confronto che ha evidenziato una generale concordanza di vedute sugli obiettivi indicati anche se con dei distinguo e specificazioni sia da parte della maggioranza sia della minoranza. Definita un'attività con una diversa modalità e tempistica. In una prima fase saranno apportate le modifiche che risultano urgenti, indispensabili e utili al buon funzionamento dell'Assemblea Legislativa per poi lavorare all'attuazione delle riforme regolamentarie e statutarie maggiormente incisive che richiedono scelte politiche di ampio respiro. L'Assemblea ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione inerente alla Sessione Europea un documento che contiene tre atti, il rapporto sugli affari europei, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione Europea, il programma legislativo annuale 2020 della Commissione Europea. Per l'Umbria ci sono tre obiettivi, il Green Deal europeo, un'Europa pronta per l'era digitale, un'economia al servizio delle persone. L'Assemblea ha approvato a maggioranza, con l'astenzione dei consiglieri di minoranza, il disegno di legge di modifica del sistema integrato dei servizi socioeducativi della prima infanzia che prevede una proroga dal 31 agosto 2020 al 31 dicembre 2023 dei termini entro cui i soggetti gestori, sia pubblici che privati, hanno facoltà di realizzare interventi di adeguamento delle strutture per il funzionamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia sul territorio regionale. Nelle interrogazioni a risposta rapida, il question time, il consigliere regionale Valerio Mancini della Lega ha interrogato la Giunta per conoscere i tempi previsti per l'approvazione del Master Plan per lo sviluppo della Valnerina e del Comune di Spoleto, le cui direttrici sono lo sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, lo sviluppo integrato dell'ambiente rurale, la valorizzazione dell'ambiente naturale, il sistema integrato turismo-ambiente-cultura, oltre alla crescita del sistema delle imprese manifatturiere dei servizi. Nella risposta, il vicepresidente della Giunta, Roberto Morroni, ha detto che prima è necessario far partire in concreto la ricostruzione e far rientrare la popolazione nelle proprie case. Solo dopo questo obiettivo primario si può lavorare a un piano di rilancio della Valnerina. Il nuovo commissario Legnini ha emanato ordinanze che semplificano gli interventi di ricostruzione. Gli effetti si potranno vedere nel 2021. Il consigliere Francesca Peppucci della Lega ha interrogato l'assessore Enrico Melasecche per conoscere gli intendimenti della Giunta in merito agli elettrotreni minuetto acquistati dalla Regione e non utilizzati. L'assessore Melasecche, nella sua risposta, ha detto che la Giunta è in animo di rimettere in esercizio i treni minuetto nell'ambito dell'imminente affidamento dei servizi ferroviari oppure di portarli a patrimonio regionale anche se, ad oggi, non risultano di proprietà né della Regione né di Umbria Mobilità. I consiglieri del Partito Democratico, Tommaso Bori e Simona Meloni, hanno chiesto alla Giunta di intervenire al Lago Trasimeno per fare fronte ai disagi legati alla presenza dei chironomidi dovuta alla sospensione delle disinfezioni durante il lockdown, facendo il punto sulle risorse stanziate e le azioni da programmare. L'assessore Morroni ha detto che la presenza dei chironomidi è rimasta contenuta nonostante l'abbassamento del livello idrometrico del lago e le temperature elevate, anche grazie all'uso di lampade specifiche. Da parte dell'esecutivo c'è piena consapevolezza del problema. Cercheremo di garantire tutti i contributi necessari alla unione dei comuni. I capigruppo Bori, Partito Democratico, De Luca, Movimento 5 Stelle e Bianconi, gruppo misto, e i consiglieri Bettarelli, Paparelli, Simona Meloni e Donatella Porsi hanno chiesto all'assessore alla sanità Luca Coletto perché non è stata ancora annullata la delibera della vergogna che costringe a un ricovero ospedaliero forzoso di tre giorni e perché non vengono applicate le nuove linee guida ministeriali sull'interruzione di gravidanza farmacologica con la pillola RU486. L'assessore Coletto ha detto che non c'è nessuna volontà da parte della Giunta regionale di non applicare le direttive intervenute. Prendiamo atto dei pareri che sono arrivati e ci riallineiamo a quanto stabilito dal Consiglio Superiore della Sanità e dal Ministero. Il consigliere Michele Bettarelli, Partito Democratico, ha interrogato l'assessore all'istruzione Paola Gabiti per conoscere le determinazioni della Giunta regionale competente in materia circa il calendario scolastico 2020-2021 con particolare attenzione alla data di avvio delle elezioni. L'assessore Paola Gabiti ha detto che sono state adottate le disposizioni ufficiali e previsto l'avvio dell'attività il 14 settembre come nella maggior parte delle regioni, dopo la più alta adesione d'Italia ai test volontari sierologici per il personale scolastico e nella massima sicurezza possibile, compresa la sanificazione post-elettorale. I consiglieri regionali della Lega, Daniele Carissimi e Francesca Peppucci, hanno chiesto all'assessore Melasecche di conoscere la situazione attuale del ponte di Corbara, i presumibili tempi per il ritorno alla normalità anche per i mezzi pesanti, se ci sono colpe imputabili a specifici soggetti e quali iniziative si stanno intraprendendo per garantire il ripristino della viabilità. Dopo aver elencato gli interventi posti in essere nella prima fase, l'assessore ha detto che proseguono le attività di realizzazione della seconda fase che consentiranno la riapertura anche ai mezzi pesanti, senza limiti di carico. Potranno iniziare nella seconda metà di settembre e durante i lavori potrebbe essere necessario sospendere temporaneamente il traffico sul ponte. L'ultimazione dei lavori e la conseguente riapertura anche al traffico pesante è prevista per gennaio 2021, investimento di circa un milione di euro. Il consigliere Andrea Fora, patto civico, ha interrogato l'assessore alla sanità Luca Coletto chiedendo di una disposizione regionale che contenga la previsione di competenza alle ostetriche a prescrivere prestazioni specialistiche ambulatoriali, adottando una condotta autonoma sull'esempio delle altre regioni, adottando il ricettario Rosa. Con tale provvedimento, ha spiegato Fora, si ridurrebbe la burocrazia realizzando risparmio e riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. L'assessore Coletto ha risposto che la regione intende valutare la possibilità di considerare le ostetriche soggetto prescrittore, demandando altre prescrizioni al medico ginecologo qualora si evidenziassero problematiche di gravidanza a basso rischio e oltre. In questo caso le ostetriche si dovrebbero identificare come ordinatori di spesa, attribuzione che dovrebbe essere accompagnata necessariamente da una serie di misure analoghe a quelle per i medici, volte a garantire il monitoraggio e il governo dell'attività prescrittiva, un sistema di codificazione che consente di indicare come soggetto prescrittore anche un soggetto diverso dal medico, seguendo un protocollo che dovrà essere condiviso con i medici, i ginecologi, l'ordine dei medici, in modo tale da evitare successive frizioni. Il consigliere Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, ha interrogato la Giunta sul programma di utilizzo delle risorse del Recovery Fund per sapere come si sta ponendo l'Umbria nell'ambito del coordinamento politico in merito alla programmazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, quali siano i progetti che la Giunta regionale intende come prioritari per lo sviluppo della Regione e quali sono le prospettive in termini di risorse che la Regione Umbria può avere a disposizione. Inoltre, se a tal fine si ritiene doveroso aprire un dibattito politico, una fase di ascolto che coinvolga la stessa Assemblea legislativa, dei rappresentanze sindacali, datoriali, l'università, associazioni e i più ampi brani della società civile per capire le linee e gli indirizzi da tracciare per l'Umbria. Il vicepresidente della Giunta, Morroni, ha ricordato che il Consiglio europeo ha approvato un pacchetto di risorse pluriennali dal 2021 al 2027, di cui 250 miliardi di euro destinati all'Italia. Al momento non esiste una ripartizione di risorse a livello regionale che verrà effettuata nei prossimi mesi per la politica di coesione 2021-2027. Per le risorse del Recovery Fund, al momento non sono previste ripartizioni di allocazione territoriale. L'invito dell'interrogante affinché le scelte e le linee di intervento possano essere condivise è parte della volontà dell'esecutivo, ha detto il vicepresidente della Giunta. Ma ciò si potrà attivare solo nel momento in cui si avrà contezza delle risorse a disposizione della Regione e delle linee di indirizzo.